Buongiorno, sono Marco Virno, sono un funzionario responsabile dei sistemi informativi di Abruzzo e promozione turismo della regione Abruzzo. Siamo qui come ente regionale che si occupa della promozione del turismo abruzzese perché riteniamo assolutamente indispensabile poter disporre di dati quali quantitativi riguardo le presenze e gli arrivi turistici, un dato assolutamente indispensabile per poter migliorare la nostra offerta turistica. L'offerta turistica che si basa su un insieme di prodotti, sicuramente il prodotto montagna, montagna estiva, montagna invernale sono un nostro prodotto molto importante, la regione verde d'Europa e l'Abruzzo con parchi nazionali e regionali ma sicuramente anche l'offerta relativa al prodotto mare, enogastronomico e culturale ci caratterizza. Il progetto STAR costituisce per noi un progetto molto importante in quanto avvalendosi della collaborazione e dell'esperienza degli altri partner di progetto ci consentirà sicuramente di affiancare e validare tutte le iniziative di promozione turistica che stiamo avviando sul web, avviando un insieme di iniziative che caratterizzeranno la nostra web presence in ambito web e ovviamente questa iniziativa consentirà di verificare, validare le iniziative di promozione che vengono attuate nel mercato web.